Bene, voglio mostrarvi questa mappa qui, chiamata la mappa aerea del mondo. Era usata per il volo come l'Hermi Air Force durante la Seconda Guerra Mondiale. Sono segnalate le rotte che dovevano fare le persone, chi voleva prendere il chilometraggio dei vari punti e ho notato due cose speciali su due rotte qui. Una è quella che va da San Francisco fino a Tokyo, che si trova proprio qui. E ci sono due soste lungo il percorso. Quindi abbiamo l'Alaska, un punto qui in Alaska, e poi la penisola della Kanchakta, tra questi due punti. E ci ha segnato il chilometraggio, la distanza in miglia fra le tappe del viaggio. E ha completamente senso, perché questo è quello che l'Air Force ci dice di come andare da San Francisco a Tokyo. Ci dicono che prendono questa rotta che tocca l'Alaska e il Kanchakta. E questo è il motivo per cui quando fanno gli atterraggi di emergenza atterrano l'Alaska. Esatto, perché arrivano, tipo sono le Filippine o qualcosa di simile. Sì, qui c'è proprio l'Asia. Se osservate il globo, non ha assolutamente alcun senso, perché sembra che facciano il giro dell'Oka. Ecco, questo fanno il giro dell'Oka. Ecco, questo è il giro dell'Oka. Non c'è nessun giro comunque. Sapete, vanno da San Francisco su una rotta di rita, boom, fino a Tokyo, e non ha assolutamente alcun senso sul globo. Ma qui il governo, l'Air Force, dice così è come si deve fare per andare da qui a qui. Si va su una rotta di rita. Voglio mostrarvi quest'area. Questa è da New York, quando lasciate gli Stati Uniti. Il punto più lontano qui, su questa parte del Newfoundland, qui, è poi questa rotta diretta per Mosca. Si tocca questo punto proprio qui, che è l'Islanda. E se usate Google e volete andare da New York a Mosca, vi fanno vedere un arco enorme. Ma un momento, perché c'è questo enorme arco? Perché non vanno diretti da un punto all'altro? Gli aerei fanno un volo curvo perché non avrebbe alcun senso, vanno in linea diritta. Infatti devono toccare l'Islanda nel loro viaggio. Interessante. Nel ritorno devono fare il fornimento con i loro aerei. Il governo gli diceva, l'Air Force gli diceva, così è come dovete andare dall'area di New York a Mosca. Dovete andare in Islanda. E sul globo è un arco enorme. E vi chiedete, perché devo fare questo? Ecco perché funziona. Il livello del suolo è a livello degli nostri occhi. I giroscopi non funzionano sul globo. Il simulatore di volo di allenamento per i piloti è un simulatore che funziona su una terra piatta e non tiene conto della gravità o della rotazione della terra. Pertanto, se volete contestare la rotazione del globo, andate a parlare con il governo perché loro pensano che è piatta. È vero, è vero. Così come lui ha il cappello. Yep! Boom! E Miguel mi ha dato la maglietta. I terrapianisti sono le persone più belle sulla terra. Pace e che Dio vi benedica. Pace e che Dio vi benedica.